E l'occasione, la scintilla, si presenta proprio il 15 aprile di 50 anni fa. Questo nacque quando sulla stampa, a quotidiano della stampa, uscì una recensione, oltretutto di un mio cliente, una bravissima persona, il professor Romero, che invece era ostile ed era un mascalzone, era stato D'Aquino, Giacomo D'Aquino, pubblicò da Feltrinelli, in una collana molto politicizzata, il diario di un omosessuale, che erano state le registrazioni di un suo paziente, mandato lì dai genitori, perché lui guariva gli omosessuali, appiccicandogli un finale che lui scopriva la donna giusta della sua vita e grazie alle terapie che lui gli aveva applicato, era diventato sano, eterosessuale. Il professor Romero recensì questo libro e il titolo era L'infelice che ama la propria immagine. Allora quel titolo e quell'articolo furono la classica goccia che doveva far traboccare il vaso e io scrissi una lettera alla stampa dicendo che non è tollerabile che si scrivano delle cose così sbagliate sull'omosessualità prendendo spunto da un libello da quattro soldi. Mi rispose il direttore, era il responsabile del contatto col pubblico, il quale disse la lettera è molto interessante, ma di questo argomento se ne parla già fin troppo. Questo rifiuto alla pubblicazione e quindi al dialogo su un argomento del genere fece sì che nel giro di pochi giorni io raggruppassi un folto numero di amici e facemmo proprio nel sotterraneo della libreria Ellas, che allora era di mia proprietà, una prima riunione dicendo ragazzi qui bisogna tirarsi sulle maniche e cominciare ad affermare i nostri diritti. E quando mi ha detto che voleva fare un giornale ho detto sì sì fai bene, sai e dice viene a farlo a casa mia, io avevo una casa grande e io per i primi quattro numeri avevo dato dei pezzi raccontando più che altro quello che facevano gli omosessuali americani. e allora io mi sono inserita in questo movimento che era un movimento molto molto bello, molto antifascista. La mia base politica intellettuale è stato l'antifascismo, un antifascismo che per me era diventato poi anarchia, che era la difesa della libertà a tutti i livelli e e quella dell'omosessualità ho capito che era la prima libertà da proporre agli uomini se lo volevano, se lo desideravano.